L'ultima domenica di agosto si festeggia a Nicosia il compatrono San Felice. Quest'anno si è giunto alle classiche celebrazioni religiose il rito delle fiaccole votive, che rappresentano simbolicamente i paesi del cammino di San Felice da Nicosia. Oltre a Nicosia sono stati coinvolti i comuni di Sperlinga, Mistretta, Motta da Fermo, Castel di Lucio, Pettineo e Tusa. Il rito è iniziato davanti alla casa natale di San Felice. Con l'accoglienza e il raduno dei pellegrini provenienti dalle comunità, anche dei paesi limitrofi. Ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle sette comunità coinvolte sono state consegnate le fiaccole votive. Dopo la benedizione è avvenuta la partenza del corteo che ha seguito i passi di San Felice da Nicosia, secondo le tabelle donate da Lucin. È stato attraversato il centro storico con una sosta presso il Monumento del Santo in via Umberto per un momento di preghiera. Il corteo è giunto infine nella chiesa conventuale di Santa Maria degli Angeli, accolto dalla banda musicale e dalle masciorette, diretti dal maestro Giuseppe Tamburello. Le fiaccole sono state deposte avanti le reliquie, con la benedizione dei pellegrini e il momento di preghiera a conclusione del pellegrinaggio. La prima parte della giornata si è conclusa con la partecipazione alla celebrazione eucaristica, preseduta da padre Luigi Saladino, ministro provinciale dei frati Capuccini. In mattinata, presso l'androne del Palazzo Comunale di Nicosia, è stato attivato da poste italiane un annullo filatelico, con un bollo speciale, con la dicitura a festeggiamenti in onore di San Felice da Nicosia, con patrono della città, 28 agosto 2022, richiesto dal convento dei frati minori Capuccini. Presso la postazione di poste italiane era possibile tindrare, con il bollo speciale, le corrispondenze.